I sutirolesi sono generalmente contadini, artigiani. Il bus del Tirolo del Nord è composto invece da intellettuali, scrittori, giornalisti, politici, i quali oltre a fornire i finanziamenti, a fornire l'esplosivo, le armi, si sentono in un certo senso in diritto anche di fornire le strategie. Gli attentati facevano gli uomini di Kershpammer, però Founder all'inizio ha detto noi diamo i soldi, noi vogliamo comandare, però Kershpammer gli ha detto no, no, noi rischiamo la vita e noi facciamo come vogliamo noi. Una delle caratteristiche di questo pre-fairung, di questo bus, era che veramente in nessun periodo è stato un capo che comandava e gli altri facevano. C'erano sempre delle vie parallele, dei gruppi autonomi. Le attività vennero pianificate nel 1958 alla riunione segreta di Appiano, cui presenziarono Kershpammer, Founder e Molden. Zepp Kershpammer, ex dirigente locale della Sjütirole Volkspartei, era la figura chiave del movimento. Kershpammer è stata di sicuro la figura simbolica nel bus che dava fiducia a tutti quelli che collaboravano, che si trattava di una cosa giusta. Arrestato dopo la Feuernacht e processato a Milano, morirà nel 1964 nel carcere di Verona. Fritz Peter Molden rappresenta sicuramente la figura più controversa del bus. Come Founder prese parte alla resistenza, unendosi ai partigiani italiani delle Fiamme Verdi, dopo aver disertato dalla Wehrmacht, periodo in cui stabilì i contatti col servizio segreto americano. Bisogna dire che Fritz Molden in quell'epoca era il più grande editore d'Austria, aveva un impero di tre giornali, poi è stato marito della figlia di Foster Dallas, che poi Alan Dallas, che era il fondatore, il suo zio era fondatore della CIA. È ovvio che Molden aveva contatti con la CIA, anche Wolfgang Faunler aveva contatti con la CIA. Poi c'erano tantissimi che avevano contatti con il nuovo nato Operazione Galen, il BND, il servizio segreto tedesco. Nel dopoguerra, per conto di Washington, allestì una rete militare clandestina nel settore austriaco occupato dall'Armata Rossa. Scoperto dai russi, dovette fuggire in America, dove continuò a collaborare con i servizi segreti statunitensi. Molden praticamente era a un certo punto del 57 fino al 61, all'inizio del 61 era non solo il finanziatore di tutta l'operazione, ma anche quello che idealmente organizzava e diciamo soffiava sul fuoco. Negli anni 50 tornò a Vienne e riprese il controllo della casa editrice di famiglia, pubblicando il quotidiano Di Press. Attivamente impegnato in politica e particolarmente dedito alla causa sud tirolese, partecipò alle azioni clandestine. A un certo punto, da un giorno all'altro, si ritira. E qui ci sono tante teorie. Io non penso che i soldi che sono stati dati al BAS sono stati della cassa di Molden, ma di altre casse, e parlo di casse americane. E a un certo punto, nel 61, quando scoppia la crisi di Berlino, di Cuba, gli americani hanno detto stop. Anche i servizi segreti italiani risultarono coinvolti. Il generale Manlio Capriata, direttore dell'ufficio R del SIFAR, branca responsabile della Gladio, chiamato a deporre dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi, dichiarò che la sua organizzazione venne segretamente impegnata in Alto Adige. Nei primi mesi del 1962 il movimento anti-italiano in Alto Adige stava facendo dei passi in avanti. In aprile fui contattato dal generale De Lorenzo, al tempo direttore del SIFAR, il quale mi disse di aver attivato degli elementi in Alto Adige, riferendosi egli a unità paramilitari addestrate presso il centro addestramento guastatori e dislocate nell'area della provincia di Bolzano. Nel periodo tra la fine del governo Tambroni e il 1964 certamente la situazione italiana andò peggiorando da un certo punto di vista dell'ordine pubblico. Io credo che sia stata sopravvalutata nel stay behind, sia stata sopravvalutata per l'Alto Adige, ma non tanto perché sopravvalutata o sottovalutata, il problema è che è arrivata parecchio dopo il periodo degli anni 60, cioè il stay behind è un fenomeno successivo. Secondo me il stay behind di per sé era, rispetto a quello che poi si è accertato, probabilmente c'è stata una sopravvalutazione del fenomeno di per sé, un fenomeno baraccone più che altro. Di fronte all'escalation terroristica lo Stato si trovò impreparato e rispose militarizzando l'Alto Adige, tuttavia non riuscì ad avere il completo controllo del territorio. Il pericolo cominciava, si può dire, già all'uscita dalla caserma, perché all'epoca per esempio non era vietato, non potevamo muovere un automezzo singolo, le jeep uscivano in coppia, le campagnole, i camion lo stesso, dove esserci un camion o una jeep. E ovviamente più ci si allontanava dai centri abitati, più i pericoli aumentavano, più ci si addentrava nelle valli a rischio, che erano più o meno tutte però, le valli che partivano dalla pusteria o dalla Val Venostra, o la Val Venostra stessa, erano tutte a rischio. Era una specie di vieto di uscire alla casa, emergenza della quale la gente non sapeva, così che erano due morti giovani su tirolesi, che erano stati sparati al posto e uccisi, soltanto perché si avvicinavano per incontrare una ragazza all'uno, per tornare al masso in una specie di funivia molto primitiva, che non si poteva fermare. Nonostante i danni ingenti provocati dalla Notte dei Fuochi, non riuscirono a paralizzare la zona industriale di Bolzano. Le bombe non interruppero neppure le trattative politico-diplomatiche. Dopo la Notte dei Fuochi, l'Italia reagisce con due strategie contemporanee. Una è mostrare un volto muscolare, una reazione che riporti il controllo sul territorio. Un'altra è quella politica. Nel settembre del 1961, e cioè a pochi mesi di distanza dalla Notte dei Fuochi, il ministro degli interni, Scelba, istituisce la commissione dei 19, detta così appunto dal numero dei componenti. Era un'abile mossa per estromettere l'Austria dalle trattative e trattare direttamente con i suttirolesi. Con l'inizio delle trattative il basso è rimasto molto isolato, non aveva più nessun sostegno nella popolazione. La commissione dei 19 è un passaggio politico molto importante, perché nei lavori e nella relazione che presenta nel 1964 vengono fissati già quei principi che saranno quelli del pacchetto, cosiddetto pacchetto, e cioè della seconda autonomia. Tra questi, ad esempio, un reale bilinguismo e la proporzionale etnica, e cioè quella ripartizione dei posti di lavoro pubblici secondo la consistenza dei vari gruppi. Ci sono state fatte relazioni anche in Austria, questo tante volte non si dice, che praticamente dei fascisti italiani, implicati con i servizi segreti, implicati anche con Gladio, militarmente, esperti militari, hanno fatto delle azioni in Austria. Nel 1962 a Innsbruck, hanno messo giù la stata di Andreas Hofer, e nel 1963 nell'Oberösterreich, dove è morto un poliziotto austriaco. Le indagini sulla Feuernacht prendono una svolta improvvisa dopo il fallito attentato a Benno Steiner, giornalista del quotidiano Alto Adige, nel passato in contatti col BAS. Egli indicò i primi nomi degli Activisten, permettendo lo smantellamento dell'intera rete terroristica sud tirolese. Dopo gli arresti del luglio 1961 rimane il BAS praticamente distrutto, è smantellato, non c'è più niente. In carcere muoiono due militanti del BAS, Franz Hofer e Anton Gostner. Il sospetto è che i decessi siano stati causati dai maltrattamenti subiti dopo l'arresto. All'epoca, evidentemente, le garanzie processuali e investigative erano molto, molto minori rispetto a quelle che sono oggi. Oggi un fenomeno o fenomeni di repressione poliziesca come ci furono allora, oggi non sarebbero proprio più possibili. Vi fu un processo a Trento contro dieci carabinieri accusati di torture, maltrattamenti percosse ai danni degli arrestati. In Sud Tirolo e in Austria fu definito un processo farsa, perché terminò con otto assoluzioni ed amnistie due. La vicenda lasciò uno strascico di dubbi, polemiche e rancuri. Ho parlato più volte con Silvano Russomanno, che è uno dei più grandi spioni italiani, ufficio direttore del Siste, uomo dell'affare riservati per l'Alto Adige, che mi ha fatto la teoria di un osso e più cani. C'è un osso, tante volte, diciamo, più cani volevano mangiare lo stesso osso. E questo è successo anche in Alto Adige. Qua praticamente si hanno curato delle concorrenze tra carabinieri, polizia, siffa, guardie di finanza, che poi tante volte, diciamo, finivano in un caos o peggio, in un morto che non doveva scappare.